Ma questo più che un brano da recensione è un brano da reaction, dovrei spostare il microfono, accendere una videocamera, ascoltarmi nel live e fare le faccette, perché non è uno di quei brani in cui c'è molto da dire ma c'è da pompare, spacca, spacca veramente di brutto. Il beat, questa tipologia di beat a me è sempre piaciuta, soprattutto se poi li affronti con un flow peso come hanno fatto sia Vegas che Salmo, non c'è nessuna punchline in particolare che mi abbia colpito, se non proprio quella iniziale del ritornello, prima c'erano i bui e adesso spacco porte, insomma questo è il concept, il mood, la ribalta, però fatta con molto stile. E i due, insomma sti due insieme fanno una bella combo, una bella combo micidiale, questa è roba da pompare nelle casse raga, non è roba che te la devi sentire e devi stare a rifletterci troppo, quindi anche il da dire, il da dirsi passa un po' in secondo piano. C'è da dire che il buon Salmo sta a fare un macello, scaricato dalla donna oppure l'ha scaricata lei, lui ha scaricato lei, si capisce, però ci prova con le amiche, poi smentisce, poi mette le storie con le altre, il buon Salmo che insomma in questo periodo sta abbastanza in hype, non per fattori che riguardano la musica, meno male questa strofa che un attimo ci ricorda che è un artista musicale. E il buon Vegas che invece aveva bisogno di uscire con questo EP è stare un attimo in hype, perché il buon Vegas dopo Malibu, quando hai un successo così grande, poi è dura ritrovarlo, è dura comunque rimanere in un livello così. E quindi di conseguenza ha avuto grandi difficoltà, lui che è tecnicamente fortissimo, però comunque giustamente come tutte le persone tecnicamente forti, che magari sono arrivate con l'esercizio di stile avanti, poi magari ti fanno la hit, e poi è difficile, è veramente dura, perché non sai bene come muoverti, allora lì magari ti appoggia a qualche hit, continui a spingere forte, devi rinnovarti, ma ci vuole tempo per capire come rinnovarti, qualche cosa mantenere del tuo stile, che lui comunque magari ha la sua metrica, il suo stile, il suo flow, uno ha anche paura di perdersi, no? Perché poi dici magari tolgo questo, però la mia fanbase piace, e quindi non sei neanche così tanto libero di scegliere, perché un cambio netto potrebbe farti perdere un sacco di seguito. Cioè pensiamo a Amy Schilla, quando dopo aver avuto il grande successo con Maracanã, eccetera, ha rifatto un disco puramente di street rap, Ketamusic volume 2, che lui voleva tanto farlo, ecco. E' stato un bel picco da un certo punto di vista discografico, di click, e anche comunque i tuoi iscritti sul canale, non sanno più cosa aspettarsi, quindi è difficile rinnovarsi, è sempre molto difficile. Sicuramente un buon feat con l'artista della Madonna è la buona soluzione, come è stato magari qui per Vegas con Salmo, come è stato per il Killa con Jake.